Imperdibile appuntamento con Walter Ricci che, insieme alla sua band, calcherà il palcoscenico allestito all'interno della corte del Castello dell'Abbate, martedì 27 agosto alle ore 22, ospite dell'ottava edizione della rassegna culturale Castello Abate, il luogo dell'incanto. Walter Ricci, cantante, pianista e compositore, è entrato subito a contatto con la musica e inizia presto ad amare il jazz, lo swing, il bebop e il contemporary jazz. Frank Sinatra, Tony Bennett e Ella Fitzgeralds diventano per lui fonti di ispirazione. La padronanza della grande tradizione dei più noti crooner d'oltreoceano e il suo stile personale dentro di sfumature e di nuove sonorità che spazia con grande naturalezza dal jazz al pop hanno attratto l'attenzione della critica e di grandi musicisti che l'hanno voluto nei loro progetti. Vincitore di prestigiosi premi nazionali e internazionali arriva in Tivurezza Pippo Baudo, che lo vuole come vocalist nell'orchestra diretta da Pippo Caruso per l'intera stagione di Domenica Inn e su Rai 1 che diretta dal vivo con Miguel Bublé e Mario Biondi. L'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri dichiara in merito al secondo appuntamento della suggestiva Kermess. Una grande voce è quella di Walter Ricci che, dopo il successo della serata di apertura con le rondinella, continuerà a incantare il pubblico nel Castello dell'Abbate, che si arricchisce sempre di più di musica, di qualità e di appuntamenti di altissimo livello, sempre molto coinvolgenti. Tutti gli spettacoli della rassegna Castell'Abbate e il logo dell'incanto sono ad ingresso gratuito e rientrano nella programmazione estiva curata direttamente dal comune di Castell'Abbate. I prossimi appuntamenti mercoledì 28 agosto con Bare Gato, Triole Capinere e giovedì 29 agosto con Antonio Norato New Quartet, Alessandro Lacorte, Giuseppe Arena e Mario De Paola.